Grande perdita per la Juve! Addio a frattesi! Scoppia il duello tra i club di Premier League per Locatelli, offerte milionarie sul tavolo. Le voci del mercato sono sempre più accese mentre i club della Premier League si preparano a un'asta da brividi per assicurarsi le abilità di uno dei pilastri della Juventus. Il centrocampista in vista, Manuel Locatelli. Prima di avviare il video, desidero farti notare l'importanza di fare clic sul pulsante iscriviti e di lasciare un mi piace. Non sarà un affare facile, con offerte che si assestano attorno ai 40 milioni di euro. Ma la domanda rimane, sarà la Juventus disposta a separarsi da questa stella emergente? Il West Ham si è recentemente aggiunto alla lista crescente di contendenti desiderosi di strappare Locatelli alla vecchia signora. Tuttavia non sono gli unici, dato che l'Arsenal è stato coinvolto in una lunga battaglia prima di garantirsi le firme dal sassuolo. Ancora oggi mantengono un occhio attento su di lui, confermando così la sua popolarità e la lotta che si prospetta per portarlo in Premier League. Secondo indiscrezioni, sembra che i club inglesi stiano pronti a mettere sul piatto un'offerta da un milione di dollari, ma la Juventus, nonostante la pressione, sembra restia a cedere il gioiello del centrocampo. La domanda è, dovrebbe la Juventus trattare la cessione di Locatelli o mantenere salda la propria squadra con la sua presenza? Lascia la tua opinione nei commenti e assicurati di rimanere aggiornato con il nostro canale. Ulteriori aggiornamenti potrebbero arrivare da un momento all'altro.